E' vero, il Vangelo non dice nulla del volto di Maria, come del resto non dice nulla del volto di Gesù. Forse è meglio, così a nessuno di noi viene tolta la speranza di sentirsi dire un giorno, magari da un arcangelo di passaggio, lo sai che a tua madre e a tuo fratello rassomegli tanto. Maria comunque doveva essere bellissima, non parlo solo della sua anima, la quale, senza neppure l'ombra del peccato, era limpida a tal punto che Dio vi si specchiava dentro, come le montagne eterne che lì, sulle Alpi, si riflettono nell'immobile trasparenza dei laghi. Parlo anche del suo corpo di donna. La teologia, quando arriva a questo punto, sembra sorvolare sulla bellezza fisica di lei. La lascia celebrare ai poeti, vergine e bella, che di sol vestita, coronata di stelle, al sommo sole, piacesti sì che in te sua luce ascose. La fida alle canzoni degli umili, mira il tuo popolo, o bella signora. O agli appassionati ritornelli della gente, dell'aurora tu sorge più bella, non vi è stella, più bella di te. O al rapido saluto di un'antifona, vale o valde decora, ciao bellissima. O alle allusioni liturgiche del totapulcra, tutta bella sei o Maria, se splendida, cioè nell'anima e nel corpo. Essa però la teologia non va oltre, non si sbilancia, tace sulla bellezza umana di Maria, forse per pudore, forse perché paga di aver speso tutto speculando sul fascino sopranaturale di lei, forse perché debitrice a diffidenze, non ancora superate circa la funzione salvifica del corpo, forse perché preoccupata di ridurre l'incanto di lei a dimensioni naturalistiche, o timorosa di dover pagare il dazio ai miti dell'eterno ferminile. Eppure non dovrebbe essere difficile trovare nel Vangelo la spia rivelatrice della bellezza corporea di Maria. C'è una parola greca molto importante, carica di significati misteriosi, che non sono stati ancora per intero esplicitati. Questa parola, che fonda sostanzialmente tutta la serie dei privilegi sopranaturali della fanciulla di Nazareth, ti suona nel saluto dell'angelo, che carito mene, viene tradotta con l'espressione piena di grazia, ma non potrebbe trovare il suo equivalente in graziosissima, con allusioni evidenti anche all'incantevole splendore del volto umano di lei? Credo proprio di sì, e senza forzature, così come senza forzature Paolo VI, in un celebre discorso del 1975, ha avuto l'ardire di parlare per la prima volta di Maria come la donna vestita di sole, nella quale i raggi purissimi della bellezza umana si incontrano con quelli sovrumani, ma accessibili della bellezza sopranaturale. Santa Maria, donna bellissima, attraverso te vogliamo ringraziare il Signore per il mistero della bellezza. Egli l'ha disseminata quella sulla terra, perché lungo la strada, ten cadeste, nel nostro cuore divendanti, le nostalgie insopprimibili del cielo. La fa risplendere nella maestà delle vette innevate, nell'assorto silenzio dei boschi, nella forza furente del mare, nel brivido profumato dell'erba, nella pace della sera, ed è un dono che ci inebria di felicità, perché, sia pure per un attimo appena, ci concede di mettere lo sguardo nelle feritoie fugaci che danno sull'eterno. La fa rifulgere nelle lacrime di un bambino, nell'armonia del corpo di una donna, nell'incanto degli occhi suoi ridenti e fuggitivi, nel bianco tremore dei vegliardi, nella tacita apparizione di una canoa che scivola sul fiume, nel fremito delle magliette colorate dei corridori che passano veloci in un'alba di maggio. Ed è un dono che ci dispera, perché, come ha detto qualcuno, questa ricchezza si gioca e si perde al tavolo verde del tempo. Santa Maria, donna bellissima, splendida come un plenilunio di primavera, riconciliaci con la bellezza. Tu lo sai che dura poco nelle nostre mani la pace, sfiorisce subito sotto i nostri ingordi contatti, si dissecca improvvisamente al soffio maligno delle nostre roventi cupidige. Si contamina presto all'ulto delle nostre latenti lussurie. Non la sappiamo trattare, insomma. È lo scavo struggente che ci produce nell'anima, invece che avvertirlo come anfora di felicità, che ci fa cantare di gioia, lo avvertiamo come ferita inguaribile che ci fa gridare di dolore. Aiutaci, ti preghiamo, a superare le ambiguità della carne. Liberaci dal nostro spirito rozzo. Donaci un cuore puro come il tuo. Restituiscici ad ansie di incontaminate trasparenze e toglici la tristezza di dover distogliere gli occhi dalle cose belle della vita, per timore che il fascino dell'effimero ci faccia depistare i passi dai sentieri che portano alle soglie dell'Eterno. Santa Maria, donna bellissima, facci comprendere che sarà la bellezza a salvare il mondo. Non lo preserveranno dalla catastrofe planetaria, né la forza del diritto, né la sapienza dei dotti, né la sagaccia delle diplomazie. Oggi, purtroppo, nella deriva dei valori, stanno affondando anche le antiche boe che un tempo offrivano ancoraggi stabili alle imbarcazioni in pericolo. Viviamo stagioni crepuscolari. Però in questa camera oscura della ragione c'è ancora una luce che potrà impressionare la pellicola del buonsenso e la luce della bellezza. È per questo, Santa Vergine Maria, che vogliamo sentire il fascino sempre benefico anche del tuo umano splendore, così come sentiamo la lusinga talvolta ingannatrice delle creature terrene. Perché la contemplazione della tua santità sovrumana ci aiuta già tanto a preservarci dalla palude, ma sapere che tu sei bellissima nel corpo, oltre che nell'anima, è per tutti noi motivo di incredibile speranza e ci fa intuire che ogni bellezza della terra è appena un ruvido seme destinato a fiorire nelle serre di lassù.